Le insistenti voci di contrasti interni alla giunta Brugnaro dovuti a un atteggiamento troppo accentratore da parte del sindaco vengono decisamente smentite dall'assessore ai servizi sociali Simone Venturini che nega qualunque contrasto sia sul piano politico che su quello personale tra il primo cittadino e i suoi assessori. Queste cose le leggiamo sui giornali, che il sindaco abbia un carattere deciso, lo sapevamo, insomma l'abbiamo scelto apposta, è un leader, è un leader di una squadra molto coesa che sta lavorando veramente molto per salvare Venezia dal disastro finanziario, sociale ed economico. Un'altra voce di corridoio vedrebbe la Lega pronta a uscire dalla maggioranza per la mancanza di un adeguato peso politico dei propri rappresentanti all'interno del governo cittadino. Non c'è nulla di vero, smentisce Venturini, le sole difficoltà che abbiamo incontrato finora sono di natura amministrativa. Siamo in una fase difficile perché il bilancio comunale è disastrato, la situazione finanziaria in città è pessima, abbiamo trovato una situazione davvero difficile da affrontare e quindi l'impegno che stiamo investendo, che comprende 15 ore al giorno per ciascuno di noi, è un impegno importantissimo e stiamo lavorando davvero H24 per dare delle soluzioni alla città. Attriti, voci di disagi, di lotta interne sono tutto false, c'è un lavoro veramente importante che stiamo facendo per ridare speranza a un bilancio comunale ormai disastrato.